Ciao, questo è un nuovo video che di solito faccio sui film che riesco ad andare a recuperare. Ho recuperato questo film anche se è del 2004, che in America è uscito alla fine del 2004, però qua in Italia è arrivato alla fine di gennaio del 2005, qua in Italia, che è un film di Martin Scorzese che sono andato a recuperarlo anche in Blu-ray, in Blu-ray come film che me lo sono andato a riguardare, anche se quando è riuscito me le ho già guardate, però gli volevo dedicare anche un video a questo film che si chiama The Aviator, che come ho detto prima è di Martin Scorzese, che anche magari come film magari due, anche quasi tre ore, che due, qui due ore e cinquanta più o meno, due ore e quarta, nove, quarta, nove minuti come film, che come genere tocca un po' drammatico, un po' gangster, e dopo essendo magari anche un film di Martin Scorzese, e sicuramente magari uno di quei film, magari sicuramente da andare a guardarselo, perché tutti i film magari di Martin Scorzese, ho visto che sono tutti belli, anche quelli che sono riuscito a recuperare, che non avevo ancora visto, che come film è fatto, come si svolgono magari le scene, ho visto che è bello magari come film, che più che altro magari questo film, anche se prende magari un po' il genere drammatico, un po' gangster, magari come trama, e più che altro magari una biografia di questo miliardaio, Awad, Ugas, che ha tante, magari, passioni, tra queste, costruire magari aeroplani, che più che altro, nel film parla più che altro, magari di questa costruzione, di un aereo, riuscire a costruirlo, magari costruirlo da un aereo dal principio, e dopo, fino a quando magari non è finito, come si dice, pronto, e fino a quando questo miliardaio, Awad, riesce a provare questo aereo per la prima volta dopo averlo, magari finito di costruire, che più che altro magari, avendo magari tante passioni, più che altro questo film parla di, magari di costruire magari aeroplani, magari particolari, magari solamente, fanno vedere solamente nel film, solamente uno che lo fanno vedere come costruire piano piano un aeroplano con le sue, come si dice, che deve rispettare tutte le sue, certe, magari linee, linee per, per, tipo la, aeronamicità, mentre questo aereo, magari, è in volo, ma ho visto che magari come è fatto così, come è fatto, come è trama, anche se magari non è il mio genere, però ho visto che è molto, molto bello, anche se magari, Martin Scrozzese, magari, è riuscito, magari, nei suoi film, a mettere sempre, magari, attori conosciuti, magari, anche in altri, in altri che ha fatto, magari, in precedenza, tipo anche Robert De Niro, anche De Vito e altri, magari, attori che, magari, in questo qua, c'è Leonardo Di Caprio, con questo qua di Aviator, però, ci sono magari anche altri attori, magari, conosciuti, che, magari, come al solito, quando faccio questi video, magari, sui film, magari, lascio sempre, magari, in descrizione, magari, il videotrail, il cast degli attori che, che hanno partecipato al, al film, e magari, se riesco, magari, anche, proprio, magari, la trama, che ho visto anche, magari, nelle recensioni che si trovano, magari, anche, in giro, che ho visto che sono tutte, magari, positive, che ha, anche, magari, un, una media del voto, magari, anche alto, come film, perché, è molto, magari, molto, è, come film, è, 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 che è fatto bene dopo ha preso ma ho visto che magari ad altri a certi mai attori hanno ricevuto mare anche dei premi dei premi così che come come è strutturato come lo svolgimento magari delle trame e delle vicende ho visto che è come i suoi tim e i soliti film di scorsese che sono sempre sono sempre fatti bene i suoi i suoi film anche se magari del 2002 del 2004 poi io sono riuscito a recuperarlo anche in anche in blu ray questo film qua per questo adesso sono voluto mora e dedicarli magari anche un video e portarlo magari sul mio canale anche se è un film magari del film amore delle 2004 e niente che mai parlava più che altro i film e questa biografia di questo miglia da io con le sue quelle passioni e interessi che magari come si dice ma hanno portato male ne anche male nel film e magari e magari magari un in quel periodo in un periodo e l'hanno preso morai in un periodo magari dove aveva un attimino un po più di mare paranoia questo miglia da io a wad e niente quello che magari potevo morai dire su questo su questo film ma magari l'ho già detta e al massimo ci vediamo magari più avanti con i miei soliti video che porto morai sul 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 mio canale e niente per adesso vi saluto e ci vediamo magari al prossimo video ciao